Presentata la 39esima stagione concertistica dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese, con un programma particolarmente ricco di eventi e di nomi, pensato dagli organizzatori in vista delle celebrazioni per il 40esimo anniversario che la prestigiosa istituzione festeggerà nel prossimo anno. Alla conferenza stampa di presentazione, che si è svolta negli uffici regionali di Via Salare Antica all'Aquila, ha partecipato l'assessore regionale alle politiche culturali Luigi Le Fanis. Due i programmi illustrati, uno riguardante gli eventi che si svolgeranno all'Aquila nel ridotto del Teatro Comunale e l'altro riguardante l'Abruzzo e l'Italia Centrale. I cartelloni prevedono entrambi un avvio di altissimo profilo, il Macbet di Verdi, un mega allestimento in collaborazione con il Teatro Marruccino di Chieti, la Fondazione all'Opera e la società Concerti Riccitelli di Teramo.